Salve a tutti i miei amici di Marcosbox, ben ritrovati nel consulito appuntamento settimanale con il riassunto di tutte quante le notizie che sono state postate su Marcosbox da me e dai miei amici. Cominciamo con la prima notizia. Secondo il governo britannico, Ubuntu 12.04 è il sistema operativo più sicuro attualmente disponibile. La stabilito è stato il Communication Electronics Security Group, che è praticamente un'autorità tecnica nazionale del Regno Unito che va a valutare la sicurezza dei sistemi informativi e cose del genere. Quest'ente, questa autorità, ha effettuato una serie di test sui vari sistemi operativi e ha stabilito che Ubuntu 12.04 è il sistema operativo disponibile attualmente più sicuro per l'apparato governativo inglese. L'altra notizia del mondo canonica riguarda Ubuntu Touch. Il team di sviluppo ha fatto infatti sapere che Ubuntu Touch non sarà più supportato per il Galaxy Nexus in Nexus 7 edizione 2012 e il Nexus 10. D'ora in avanti, tutti quanti gli sforzi dei programmatori saranno concentrati sullo sviluppo delle ROM per Nexus 4 e Nexus 7 edizione 2013. Quindi, diciamo così, che per quanto riguarda i vecchi device, tutto sarà lasciato nelle mani della comunità. Per la gioia degli amanti delle Distro Wars c'è una notizia del potenziale molto frammoso. Il sito internet linux.com ha pubblicato una classifica delle 7 migliori distro per il 2014 e all'interno di questa classifica spiccano due nomi legati a Canonica, ovvero Ubuntu che è stato giudicato il miglior sistema operativo in ambito desktop e Ubuntu come miglior sistema operativo in ambito laptop. C'è una notizia poi che è sempre riguardante il mondo Canonica e che ad alcuni non interesserà, però comunque è significativa. Canonica non riesce ancora a pareggiare il suo bilancio. Dai dati emersi dal bilancio pubblico, o meglio dall'audit che è stato pubblicato, emerge che anche per quest'anno Canonica l'è in rosso e il rosso di 21,3 milioni di dollari. 10 milioni di dollari in più rispetto allo scorso anno. C'è però di controparte un aumento dei capitali, una maggiore entrate, sono 65,7 milioni contro i 56,8 dello scorso anno, cifre che per la maggior parte di voi saranno incomprensibili anche per me, perché non ho capito bene il bilancio come viene fatto in quel di terra inglese. Come ormai da tradizione, ogni settimana c'è almeno un posto proveniente dal mondo mangiaro. Il tema di sviluppo di mangiaro ha rilasciato la seconda public preview del ramo 0.8.9 di mangiaro. Novità, novità, principalmente se il rilascio di quattro edizioni. L'edizione con XFCE, che ha visto l'aggiornamento dei pacchetti di XFCE all'ultima versione disponibile, ed era 4.11. qualcosa. L'edizione con Openbox minimale. E poi abbiamo le due edizioni con Openbox e con KDE, quelle con già tutto con dei software preinstallato. La particolarità di questo rilascio è l'introduzione di questo nuovo tool chiamato Turporens, che praticamente non è altro che una versione riveduta e corretta di Capdan, che era un tool presente su Chakra, e prima ancora su un altro visto, che praticamente guida l'utente nel post-installazione per permettergli di cambiare fin da subito alcuni aspetti grafici, wallpaper, gestore finestre, e cose del genere. Questo tool, appunto, Turporens, è stato introdotto ed è disponibile per Suga ISO con KDE e Suga ISO con Openbox. Dal mondo derivate, arriva il rilascio di Netrunner 13.12, derivata di Kubuntu 13.10, questa nuova versione della distro aggiunge una serie di nuovi press buoni sviluppati in casa, come ad esempio il nuovo lanciatore, di cui vi ho parlato negli scorsi mesi, poi c'è un pannello laterale scomparsa, un nuovo gestore dei processi nella barra inferiore, comunque, diciamo, come al solito, una distro che va a ritoccare alcune cose per rendere più piacevole l'utilizzo da parte di chi si avvicina per la prima volta al mondo Linux, o meglio, al mondo KDE. Per quanto riguarda la segnalazione di nuovi programmi, questa settimana vi ho segnalato Vocoscreen, che ho conosciuto anche grazie proprio a Netrunner. Che cos'è Vocoscreen? È un potente screen reader, che è facile da utilizzare, che di sicuro farà ragione di tutti quelli che sono alla ricerca di uno screen reader semplice, che abbia, appunto, si installa e si utilizza, senza stare troppi a smanettare. Il tema di KDE ha rilasciato poi in settimana KDE 4.12.1, che si tratta del primo rilascio di manutenzione del ramo 4.12, come al solito, correzione di bug e cose del genere. Non c'è nessuna nuova funzionalità aggiunta. Per gli amanti di XB e MSI vi ho linkato poi due raccolte di plugin con contenuti italiani, una delle quali è realizzata da un mio lettore. Andatela a vedere, andatela a valutare. Anche il mondo Debian questa settimana ha fatto parlare di sé. Spotify, il noto servizio musicale che offre streaming music on demand, ha scritto nel Debian Technical Committee, l'organismo che prende le scelte più importanti nel mondo Debian, una mail con la quale dà il suo parere circa l'adazione del nuovo gestore di servizi. Come ben sapete, in casa Debian vogliono cambiare il gestore di servizi. La scelta è SystemD verso Upstart. È una scelta che si sta ai suoi pericolando. Vabbè, poi andatevi a leggere anche le motivazioni degli uni e degli altri team. Comunque Spotify ci ha tenuto a far sapere la sua, cosa che non se ne frega praticamente nessuna, ma almeno io ho visto in questa un'ingerenza non da poco, perché Spotify dice io utilizzo i server con Debian, per me mi è più facile l'utilizzo di SystemD, cioè non porta chissà quali motivazioni tecniche. Semplicemente il fatto io lo utilizzo a gratis, preferirei questo. Vabbè, andatevi poi a leggere nel post le motivazioni e tutto il resto. L'altra notizia riguardante l'universo Debian riguarda Tangoo. Tangoo che cos'è? Lo sapete. È una derivata di Debian che focalizza l'esperienza utente su KDE e in seconda ISO, quella su Gnome. Come ben sapete il rilascio è previsto questo mese di gennaio, però ci sono stati alcuni intoppi riguardanti l'installer grafico. Praticamente l'installer grafico ereditato da Debian non funzionava. Ve ne sarete accorti se avete provato le varie snapshot che venivano rilasciate. Fortunatamente i programmatori se ne sono accorti in tempo, in tempo utile. Hanno deciso di cambiare approccio, di cambiare installer. E hanno deciso di utilizzare l'installer di Linux Mint Debian Edition, che è praticamente lo stesso installer che avete visto anche su alcune derivate come SolidXK. Questo installer è semplice e facile da utilizzare. Non offre chissà che grandi personalizzazioni durante la fase di installazione, perché il partizionatore è qualcosa di basico e basta. Però comunque funziona, funzionata da prima coppa, fa il suo effetto, quindi utilizziamo. Non appena verrà rilasciata una versione, diciamo così, corretta, perché bisogna aggiungere le slideshow e cose del genere di questo installer, verrà rilasciata anche la nuova ISO di testing. Questo comunque, visto che oggi è 18, visto che ad oggi non è ancora stata rilasciata nessuna ISO di testing, farà presupporre che anche il rilascio di Tangoo verrà slittato di un mese. A me, queste sono considerazioni personali. Passiamo ora a due notizie riguardanti il mondo della pubblica amministrazione. La prima riguarda la regione Umbria. La regione Umbria ha comunicato i dati derivati da risparmio realizzato a seguito dell'adozione di LibreOffice come suite d'ufficio predefinita. Su 7.000 postazioni migrate sin ad ora, dai quali, ricordo, ce ne sono entro fine al 2014, ce ne verranno completate altre 2.000, si è avuto un risparmio di 228.000 euro, con soltanto 56.000 euro di esporso iniziale per il supporto commerciale. Che dico, un risultato straordinario, ed è un esempio da prendere per rilanciare la pubblica amministrazione in tutta Italia. Cioè, vabbè, ci sono anche altre regioni, come avete avuto un punto di legge su Marcos Vox nel corso dei mesi, che hanno fatto altrettanto. Speriamo che una cosa del genere diventi la prassi in tutta Italia. La seconda notizia riguarda una notizia importante per tutta la comunità mondiale dei sostenitori del software libero e dei formati aperti. L'Uruguay ha scelto di diventare il primo paese al mondo ad adottare per legge i formati aperti e il software libero. Il paese governato da Giuse Mujica, Mujica, come la vuoi si pronuncia, ha approvato la legge software libero e formato a Seviertos e nelle Stato. Scusate la pronuncia schifosa. Cosa fa questa legge? Questa legge praticamente obbliga la pubblica amministrazione ad adottare software libero e formati aperti. Stupenda. Stupende complimenti al governo dell'Uruguay. L'Uruguay diventa così praticamente il primo e si spera non unico Stato a diventare indipendente dal punto di vista tecnologico per quanto riguarda la gestione dei suoi dati. Deve aver pensato la stessa cosa anche la Cina. Durante la settimana è stato dato l'annuncio della nascita di un nuovo sistema operativo mobile chiamato COS, acronimo di China Operating System. Che cos'è? È praticamente un sistema operativo open source basato su kernel Linux sviluppato da una società cinese la Shanghai Yangtun con il supporto dell'Istituto del Software dell'Accademia delle Scienze Cinesi. Nel video di presentazione di questo nuovo sistema operativo è possibile vedere questo sistema operativo in azione su smartphone, su tablet, su smart tv e set top box. Praticamente un ecosistema completo totalmente interconnesso perché poi è possibile vedere l'interazione tra tutti quanti i device. Fanno sapere che ovviamente non mancheranno le principali applicazioni possiamo intravedere due su tutti Firefox ed Angry Birds ad aiutare lo sviluppo si vede la regia occuta di HTC perché nel video sono presenti ben due device HTC con in esecuzione questo nuovo sistema operativo praticamente c'è un HTC One e un HTC Butterfly S staremo a vedere ne vedremo delle belle molto probabilmente comunque questo sistema operativo rimarrà confinato alla Cina o quantomeno tutta l'area a guardia asiatica non penso che lo vedremo mai in Europa. Le ultime due notizie riguardano degli appuntamenti nerdaglioli per tutti voi il primo è l'appuntamento del Qt Day 2014 che si è tenuto ieri e oggi se guardate questo video di sabato a Firenze quindi nelle giornate 17 e 18 gennaio l'altro appuntamento si deve ancora svolgere le iscrizioni sono ancora aperte e si terrà martedì 21 gennaio a Cosenza presso l'Aua Zenit dell'Università della Calabria si terrà il seminario dal titolo Rubit Linux Radisto GNU Linux Made in Cosenza il seminario sarà tenuto dal mio amico Luigi e dal suo socio Massimo che sono due sviluppatori del Radisto se siete in zona fateci un salto perché potrà essere un'esperienza interessante bene con questo ho concluso ci vediamo la prossima settimana con tante nuove notizie lunga vita e prosperità a tutti quanti ciao ciao